Il Vescovo del Nicaragua Il Vescovo del Nicaragua Il Vescovo del Nicaragua Alcuni rapporti evidenziano che uno dei grandi bisogni del popolo nicaraguense sia l'occupazione. Ci sono famiglie in cui su cinque persone solo una lavora. Questo è un appello che facciamo costantemente, sia all'iniziativa privata che al governo, perché si promuova l'occupazione. Il governo potrà promuovere molte fonti di lavoro. Negli ultimi anni le relazioni tra la Chiesa e il governo sono migliorate grazie al perdono chiesto dai sandinisti per aver ostacolato il lavoro di sacerdoti e suore con censure, attacchi e anche espulsione di religiosi. Per due volte a meta dei viaggi di Giovanni Paolo II nel 1983 e nel 1996, il Nicaragua oggi vanta pastori capaci di essere accanto alla gente per camminare sui passi di Gesù. Nicaragua è un popolo eucaristico e un popolo mariano. Questa è la base di tutto il nostro lavoro. Di solito noi vescovi e i sacerdoti siamo pastori molto vicini al nostro popolo. Noi vescovi non abbiamo autista, ma guidiamo la nostra macchina, non abbiamo segretari, apriamo e rispondiamo personalmente alla nostra corrispondenza e visitiamo regolarmente le parrocchie. Personalmente mi è capitato una domenica di celebrare quattro messe, di cui una alle 11 di mattina e l'altra da celebrare alle due e mezza. Non avendo neanche il tempo di sedermi a tavola per mangiare, ho chiesto al parroco di prepararmi dei panini, uno spuntino, che ho consumato per strada mentre guidavo. Una dedizione totale, espressione di un popolo fedele e affezionato alla sua chiesa. In Nicaragua c'è un proverbio, amor con amor si paga. Le persone vedono che siamo loro vicini e si avvicinano a noi per sentire l'affetto, l'amore. Io ringrazio la gente per l'amicizia, sono loro grato per l'amicizia, per l'affetto, per il loro amore, per le loro preghiere, perché quelle cose non si possono comprare, neanche con tutto l'oro del mondo.